Oggi ci giocheva Sassuolo Inter Eh, ma oggi proviamo un nuovo esperimento perché i giocatori da uno diventano due, giusto? Giochiamo dalle Ati, prima in una squadra prima in un'altra, partita Sassuolo-Inter Inter favorita, ma neanche più perché in realtà è il Sassuolo che è favorito oggi Cosa ne pensi, Stefano? Eh, vedremo se vinceva Sassuolo Vedremo Vai, si parte Ah, noi siamo l'Inter Tutto pronto? Si parte E si vedremo, tu dice da fare Caccia di posizione per l'Inter Vai, vai A te La batte con la nuova punizione Sado qua Non lo so Ma tu hai sbagliato Ma no, ti pallonetto Qua Passava Vai, passa Ma no, ti pallonetto Ma no, ti pallonetto È lo stesso a me Lo stesso a me succede Non passa E vai Tira 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 Bello Oh Tira Vado al secondo tempo. Mi dispiace per l'Inter ma qua il Sassuolo la farà a sua la squadra. Stiamo cercando di andare esperto, ho sbagliato, mi metto di livello alla prossima. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. E che cavolo è passato? Pobbiamca. Che cavolo ne so? Pobbiamca. Bravo! Ecco la posizione. Gol! Il Sassuolo è schiava. Non so se fai l'aggiustanza. Non si vincono le partite, servono i gol e loro hanno fatto esattamente questo. Un gol bellissimo, importantissimo e sorprendente. Caffetto. Ah, il capitano. Ah, è il capitano Mare. Ah, adesso entra Mordis. Ma non si sta. Posta la. Posta la.. Posta la.. Passa la.. Passa la.. Posta la.. Posta la.. Posta la.. Ma proprio Brozovic! Li intervisti! beviti questa pressione questo rinvio passalo che azione io sono stato per cazzo sono riuscito aspetta 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 ciò che è questo schema qua corner battuto a bordo la mette in mezzo bello la sala di vuole... il mio corner passa... NOOOOOO se... da solo ha vinto una 0 sembrava una partita facile sulla carta invece hanno dovuto dare a fondo tutte le energie per avere la meta e la squadra da passare in effetti ha tenuto duro ma alla fine non è stata una passeggiata papà papà